Ok, questo è il pezzo che presentiamo qua stasera, il nostro Enelio. Eh già, nessuno lo conosce. Sì, io lo conosco. Si intitola Chanel 2. Ah, lo conosco. Il nome infatti di un famosissimo nightclub di Vitebbo. Ah, no, no, no. Ma che li hai però, eh? Dove? A Migliato. Hai visto? Io non ce ne sono mai stato. Manco io però. Chi è che lo sa? Chi lo conosce? La Chanel 2. Guarda, c'è stato un ragazzo lì. Ma che cava? Però la cava gli è stato di un piede doccia. Italiano! Ok, questo è il nostro Enelio. E prima che cazzo le suoi. Ok. Questa è il nostro Uniosco. Questa è il nostro Torno. Quo'è? Questa è il nostro Torno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.